a squadra al molisi appelli per la pace e messaggi dei vescovi nel giorno di festa a campo basso solenne funzione per colai anni a santa maria della croce ancora uno slittamento per la riapertura della cattedrale tentato stupro parla la vittima vanno avanti le indagini sulla violenza denunciata da una donna di gamba tesa una versione che però i presunti aggressori non confermano e anzi ribaltano super bonus dalla porta impegno per il molise il senatore interviene sulla questione delle zone terremotate comprendo le ragioni del governo dice il parlamentare ma mi attiverò per far garantire benefici anche ai nostri comuni colpiti dal sisma del 2018 disernia in giunta e l'ora del turnover dopo le elezioni del consiglio provinciale in programma per domenica prossima scatterà l'avvicendamento della maggioranza di palazzo san francesco previsti alcuni cambi nella squadra del sindaco buona domenica e buona pasqua ben ritrovati con la nostra informazione in apertura quindi parliamo proprio della pasqua e delle celebrazioni religiose in tutta la regione partiamo da campo basso per la prima pasqua in città per monsignor biaggio colai anni il nuovo arcivescovo stamattina ha celebrato la messa nel centro storico a santa maria della croce parla parlando di pace in un periodo segnato dalle guerre nel mondo per il capoluogo ancora una festa senza la cattedrale chiusa ormai da sei anni la fine dei lavori ha subito un nuovo slittamento al mese di luglio sentiamo il soluongo è arrivato alla guida della diocesi da appena tre settimane ma monsignor biaggio colai anni è già perfettamente integrato nella sua nuova diocesi l'arcivescovo stamattina ha celebrato la messa nel centro storico nella chiesa di santa maria della croce un luogo dove si era già recato più volte negli ultimi giorni per i riti della quaresima nella sua omelia un appello alla pace in un periodo segnato dalle guerre nel mondo sono necessari gli occhi del cuore della fede per poter scorgere il signore ancora oggi vivente nei nostri contesti che sono contesti di vita difficile contesti nei quali ci sono non soltanto 20 di guerra come si poteva dire un paio di anni fa ci sono situazioni di guerra che direttamente coinvolgono migliaia e migliaia di persone producendo fame miseria conseguenze della guerra dalle quali i paesi si risolleveranno chissà quando e poi le situazioni indirette le nostre paure la nostra preoccupazione le nostre economie mancanza di lavoro mancanza di possibilità di andare nel mondo abbiamo una serie di conseguenze perché la guerra è in atto e quella guerra silenziosa tacita ma che è vera della quale parla il papa spesso e allora sono quelli i luoghi nei quali trovare il signore risorto la prima messa di pasqua di colaian in città la messa orfana della cattedrale la chiesa è chiusa ormai da sei anni dal 2018 e anche le ultime previsioni che parlavano di una possibile riapertura proprio con l'arrivo del nuovo vescovo sono saltate la fine dei lavori ha subito un ennesimo slittamento ora sui ponteggi montati attorno all'edificio di culto il termine indicato è il prossimo mese di luglio e giungono anche da isernia dal vescovo della diocesi di venafro isernia venafro gli auguri di pasqua per i fedeli con l'invito per tutti alla pace sentiamo barbara fino educare alla pace è con questo invito e con questa riflessione che monsignor camillo cibotti vescovo della diocesi di isernia venafro apre i suoi auguri per la santa pasqua non solo alla sua comunità ma con una riflessione rivolta a quelle persone che stanno soffrendo per le atrocità della guerra l'ucraina adesso palestina e anche diciamo israele ma quanti focolai di guerra ci sono e li abbiamo dimenticati o non se ne parla quello che è importante è che non ci chiudiamo in noi stessi e ci riduciamo a godere di quel benessere che noi tutti in europa o ne altre parti del mondo godiamo dimenticando chi soffre apriamo questo nostro cuore pregando per la pace ma anche se fosse necessario gridiamo bisogno di pace perché le orecchie di chi detiene il potere spesso sono orecchie chiuse allora bisogna stapparle l'augurio di una pasqua in cui la pace regni sovrana tra le persone nei cuori di chi soffre nelle famiglie a tutti auguro una pace ricca di speranza ma anche una una pasqua che ci prenda così tanto interiormente da farci rendere consapevoli che possiamo lottare per la pace possiamo anche noi conquistare la pace e la conquistiamo educando le nostre famiglie i nostri figli alla pace adesso andiamo a termoli per ascoltare le parole di don benito giurgetta rivolte ai fedeli della parrocchia di santimotio alla comunità cittadina un augurio ricco di speranza per un mondo migliore ricordando l'importanza delle radici del focolare domestico dalila catenaro la pasqua che dall'aramaico significa passaggio passare oltre deriva dal racconto della decima piaga nella quale dio comandò al suo popolo di intingere con il sangue dell'agnello le porte delle case di israele per evitare che l'angelo della morte passando si fermasse dinanzi a quelle abitazioni e colpisse le famiglie con il dolore della morte dei primogeniti dramma che invece colpì le case degli egizi come racconta il libro dell'esodo l'etimologia della parola sta ad indicare la liberazione del popolo dalle catene della schiavitù un augurio quello di don benito a vivere quel passaggio dei momenti bui alla libertà di amare e sentirsi amato ma anche il ritrovo del focolare domestico delle radici e della famiglia la parola pasqua come tutti sappiamo significa passaggio allora l'augurio più bello che si può fare quello che ognuno di noi effettui nella sua vita dei passaggi dal male in bene dal bene nel meglio tutti tutti noi abbiamo bisogno di effettuare dei passaggi e il passaggio che si celebra nella pasqua è quello del grande popolo che ha superato le barriere della schiavitù ed è arrivato alla terra promessa come gli era stato detto condotto da mosè allora anche noi dobbiamo passare dai nostri momenti bui dalle nostre schiavitù alla libertà credo che la libertà più grande alla quale oggi si possa aspirare è quella di sentirsi amati e quello di amare di essere utili a qualcuno credo che una vita raggomitolata in se stessa racchiusa dentro se stessi e ravvolta soltanto dal proprio egoismo è una vita strozzata è una vita non realizzata una vita si realizza quando la si dona e donare se stessi significa far esistere l'altro nella mia vita con l'accoglienza con la condivisione con la collaborazione con la corresponsabilità e credo che questi elementi siano costitutivi dell'ambito familiare allora l'augurio più bello che in ogni famiglia ci sia reciproca accettazione reciproca valorizzazione reciproco perdono e fare nuove le nostre le nostre esistenze il sacrificio compiuto da gesù duemila anni fa fu un sacrificio volto alla salvezza dell'umanità ma dio non conosce tempo né spazio solo amore per noi esiste il tempo e esiste lo spazio per dio non esiste né il tempo e né lo spazio per dio tutto è in un attimo la morte di cristo la sua risurrezione è in un attimo e noi ci dobbiamo immergere tuffarci in questo attimo diventerà un attimo di eternità anche per noi nell'augurare una serena pasqua a tutti i molisani non possiamo non soffermarci ad un'attenta riflessione in questa giornata auguriamo il ritorno ad una vita di pace al rispetto della propria dignità a milioni di persone che stanno vivendo periodi difficili e tristi e quanto afferma il presidente della regione francesco roberti nel suo messaggio di auguri per la pasqua ai molisani mi riferisco ai cittadini di quei paesi in cui si combattono le guerre papa francesco continua a invocare la pace nel mondo l'attenzione per chi soffre a causa dei conflitti in corso o vive situazioni di disagio con le guerre conclude il governatore non si risolvono i conflitti quindi il mio augurio è che venti di pace possa riprendere a soffiare ovunque vanno avanti cambiamo argomento le indagini sul tentativo di stupro che una donna di gamba tesa ha denunciato di aver subito una versione che però i presunti aggressori non confermano e anzi ribaltano sul caso sta indagando la procura della repubblica di campo basso giovanni di tota una sfilza di denunce di referti del pronto soccorso del cardarelli un occhio tumefatto ai segni di fascette di plastica legate intorno ai polsi riscontrate anche dagli agenti della squadra mobile ilaria il nome di fantasia che abbiamo utilizzato per la ragazza di 32 anni di gamba tesa che ha raccontato di aver subito un tentativo di stupro qualche giorno prima era stata inviata iberio a sporgere denuncia contro quelle stesse persone un racconto dettagliato di un'aggressione subita nelle campagne alla periferia del paese con un'amica della vittima che avrebbe anche visto i presunti aggressori comunque gli episodi più brutti che mi hanno segnato a vita sono accaduti nel mese di marzo di quest'anno da prima c'è stata un'aggressione un tentativo di stupro da parte di due di loro di cui per ora non posso parlare perché ci sono le indagini in corso fatti sui quali hanno raccolto elementi e testimonianze i carabinieri della locale stazione e quelli del capoluogo e gli agenti della squadra mobile di campo basso ma fatti che i presunti aggressori contestano e anzi ribaltano nella ricostruzione che ilaria ha messo nero su bianco nelle denunce depositate un quadro non ancora del tutto definito su cui è chiamata a fare piena luce la procura della repubblica a campo basso è stato aperto un fascicolo dopo pasqua ci saranno nuovi colloqui e anche altri interrogatori per dipanare una vicenda sul cui sfondo si staglia un vissuto difficile e pieno di problemi e per questo motivo del caso si sta occupando anche il centro antiviolenza il molise continua a spopolarsi sono arrivati in queste ore nuovi dati istat al primo gennaio di quest'anno la popolazione residente è scesa a 200 mila 89 mila 400 persone circa 400 in meno rispetto ad un anno fa unico dato positivo è che la flessione è in calo rispetto agli anni precedenti in 20 anni la regione ha perso oltre 31 mila residenti nel 2004 infatti gli abitanti erano 321 mila pur comprendendo le ragioni del governo in ordine alla necessità e all'urgenza di prevedere ulteriori misure per la tutela della finanza pubblica nel settore dell'edilizia mi attiverò affinché il decreto legge sia modificato durante l'iter parlamentare in senato per garantire ai comuni molisani gli stessi benefici di quelli dell'italia centrale con queste parole il senatore di fratelli d'italia costanzo della porta commenta la questione dei fondi relativi alle zone terremotate colpite dal sisma del 2018 francesco di giacomo i dati sul portale open police relativi al decreto legge 19 2024 aggiornati al 2 marzo ci parlano di un atto governativo che contiene indicazioni per l'attuazione del pnrr tra queste alcune modifiche alle governance del piano che vedono un ruolo ancora più centrale della struttura di missione il decreto inoltre fornisce indicazioni sulle risorse stanziate per portare a compimento quei progetti rientranti in misure che sono state del tutto o in parte stralciate dal piano circa 3 miliardi e mezzo di euro complessivamente l'aumento della spesa monta circa 15 miliardi con il 60 per cento di questo incremento che viene assorbito dal fondo di rotazione per l'attuazione del piano next generation dell'europa per l'italia questa modifica è stata voluta dal ministro fitto anche alla luce di quello che succedeva nei territori laddove le risorse dello stato non venivano spese nel migliore dei modi guardate quello che è successo con la zess c'erano otto commissari la zess non è entrata in funzione così come avrebbe dovuto pochi soldi poche risorse messe sul territorio adesso invece con la zess unica e con un portale unico sicuramente sarà un'accelerata anche a questo provvedimento che ha dei benefici importantissimi per tutte le regioni del centro sud in particolare anche per il nostro molise che ricordiamo su 18 le prime 18 stanze 11 vengono dalla nostra regione questo è un po il light motive degli ultimi tempi e la rimodulazione del pnr non si perde nessuna risorsa vengono rimodulate le risorse su anche su altri strumenti normativi come il next generation you o alle reggeventi per esempio sulla sanità siamo stati accusati di aver distratto risorse di aver tolto risorse anche in questo caso il governo meloni ha centrato l'obiettivo stop anche allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti del super bonus per case popolari cooperative di abitazioni onlus aree terremotate o alluvionate ma con delle eccezioni per gli iter già avviati e quanto prevede il decreto approvato in consiglio dei ministri che salva anche le barriere architettoniche la posizione dei fratelli d'italia al riguardo comprendo intanto le ragioni del governo perché il ministro giorgetti si è affrettato a emanare ovviamente di concerto con il governo un altro decreto legge che va a bloccare ulteriormente il super bonus sulla scorta di dati istat che vedono un debito pubblico salire a causa diciamo del malfunzionamento di questo strumento normativo il problema fa salvo fa salva l'area centrale quindi il terremoto dell'aquila quindi le regioni abruzzo marche umbria e lazio e mi sembra giusto che invece rientri in questo plafond anche il terremoto 2018 del molise per questo mi batterò con un apposito emendamento perché il provvedimento arriverà in senato quindi a giorni io emenderò il provvedimento cercando di far rientrare appunto anche i comuni terremotati nel molise quel terremoto del 2018 è necessario che la presidente del consiglio giorgia meloni convochi sindacati azienda per aprire una trattativa sul futuro dell'automotive lo afferma il segretario della fium cgl michele de palma in una intervista al corriere della sera quanto ai piani sull'italia annunciati dal numero uno di stellantis carlo tavares che riporta riguardano anche termoli il segretario li bolla come propaganda il sindacalista infine conclude siamo al paradosso che stellantis stanzia centinaia di milioni per far uscire i lavoratori invece di investire informazione e assunzioni la procedura di incentivi agli esodi riguarda 121 lavoratori dello stabilimento di termoli e scatta il conto alla rovescia di zernia per il turnover nella giunta castrataro dopo le elezioni del consiglio provinciale in programma per domenica prossima sarà la volta dell'avvicendamento nella maggioranza di palazzo san francesco con alcuni cambi nella squadra del sindaco davide gambardella tra una settimana esatta isernia scatterà l'ora delle elezioni di secondo grado al consiglio provinciale una sfida che sarà solo il prologo per il cambio di nuovi equilibri politici in via aberta ma anche a palazzo san francesco è ora di turnover per la giunta castrataro annunciato già all'inizio del suo mandato il sindaco a metà aprile dove aprire il valse dell'avvicendamento i nomi più caldi per questo cambio sono quelli di umberto di giacomo al posto dell'assessore domenico di baggio ma anche quello di nicolino paulino che dovrebbe lasciare la presidenza del consiglio comunale di giacomo capogruppo di comunità attiva ed ex volt adesso rivendica riconoscimento in giunta con un assessorato un patto da rispettare che risale ai tempi della campagna elettorale e che a metà aprile dovrebbe andare in porto ma la vera rivoluzione a palazzo san francesco potrebbe arrivare anche dal cambio del vice sindaco con federica vinci che potrebbe lasciare il posto all'assessore esterno angelo jannone ma il turnover potrebbe riguardare anche la presidenza del consiglio comunale seggio sardelli del partito democratico e in pole position per la carica ricoperta da nicolino paulino ipotesi che però dovranno trovare conferma dopo il 7 aprile prima c'è infatti la sfida al consiglio provinciale di sernia e in questi due giorni di festa sono molti luoghi d'arte aperti ai visitatori di tutta la regione si va dai musei alle aree archeologiche passando per i castelli sentiamo natale con i tuoi e pasqua con chi vuoi dice il detto e quindi anche dove vuoi e allora c'è chi ha già optato per il pranzo in agriturismo e gita fuori porta che ha deciso di trascorrere le due giornate sulla costa chi ha organizzato un picnic con gli amici e chi invece ha optato per una pasqua e pasquetta in giro per castelli e musei aperti in questi due giorni decisione della direzione regionale musei molise dando la possibilità anche a chi verrà in regione da fuori di visitare i luoghi culturali più belli e più interessanti e quindi oggi e domani saranno visitabili alcuni anche con visite guidate il castello di cività campomarano il complesso di san vincenzo al volturno il castello pandone il museo archeologico di venafro il museo del paleolitico e il museo archeologico di santa maria delle monache di isernia dove è stata allestita alla mostra la forma dell'oro storia di gioielli dall'italia antica con annessi laboratori per bambini naturalmente non poteva mancare il parco archeologico di sepino il museo sannitico di campo basso e magnifici affreschi del castello di gambatesa gli orari sono consultabili sul sito della direzione regionale dei musei molise mancano esattamente due mesi al corpus domini a campo basso già si è messa in moto la macchina organizzativa per la festa più attesa dell'anno quest'anno la sfilata dei misteri sarà il 2 giugno in concomitanza con la festa della repubblica il comune sta lavorando per l'organizzazione confermati grandi concerti a selva piana sentiamo enzo longo rispetto agli ultimi anni stavolta sarà un corpus domini anticipato cade infatti il 2 giugno per giunta in concomitanza con la festa della repubblica un corpus domini dunque anche tricolore mancano due mesi esatti alla settimana più attesa dalla città e non solo e la complessa macchina organizzativa si è già messa in moto con a capo la sindaca paola felice ogni anno si parte subito con la fiera che è un po il cuore della di tutto l'evento legato al corpus domini e quindi successivamente abbiamo aperto anche il bando per l'iniziativa ormai giunta la sesta edizione che coinvolge tutti i comuni molisani per la promozione del territorio mi riferisco alla città dei misteri tra borghi e tradizioni come lo scorso anno abbiamo già ottenuto anche il patrocinio del ministero del turismo perché l'ambizione che abbiamo sempre portato avanti è quella di proiettare la festività del corpus domini e il festival dei misteri in un circuito non solo locale ma nazionale quindi il riconoscimento del ministero ci aiuta a veicolare meglio questa bellissima tradizione anche per quest'anno confermata la formula adottata negli ultimi due anni con l'itfiba mario biondi mannarino e fabbri fibra i grandi concerti si terranno in due sere sabato e domenica nell'area di selva piana l'impianto è resta lo stesso ovviamente cambieranno gli artisti stiamo lavorando anche per questo però ovviamente non sono ancora in grado di farvi anticipazioni ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito tutti voi una buona domenica ma soprattutto una buona pasqua da tutta la redazione di tele molise buona giornata